quest'estate si sta morendo 45 gradi all'ombra però io la soluzione venite a vedere cosa sto facendo oggi vedete lo step più difficile adesso è vestirsi perché ripeto con questo caldo mettersi su anche la muta prima di entrare in acqua non proprio il massimo tra l'altro mi hanno anche dato le scarpe rosse come il papa muta estiva perché fa fresco prova serve la mano una gru dobbiamo prendere una gru si sa se sopravviveranno questo primo step fatto ma io adesso mi devo mettere sta roba ma non mi sembra il caso posso dire questo è davanti o dietro? no è davanti? è dietro? cioè volevi mettermi la faccia così? certo ma comunque il freddo si vede ma sei sicuro di non volere un'altra muta ancora? no ma tra un attimo svengo tu sei sicuro di fare l'autonomia invece? si ormai c'è un'esperienza incredibile in questo settore le ultime parole famose prima di dovarlo in fondo vedi quel ciabatte rosa? si top però le scarpine da papa sono belle cosa fai ma non farla consumare tutta che non arriviamo in fondo certo che ci arriviamo stiamo così tutto il giorno? non è un movimento a me 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 L'acqua le chiedi, la cosa che non so forzo A voi piace l'acqua le chiedi? Ti prego, ti prego, guarda Questa che è ancora grande così Gabbia, gabbia, gabbia Gabbia, gabbia L'unico 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 Ilonico L'unico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tira servite riverita siccome durante tutto il percorso si metteva a munire dire yellow card guardate cosa gli ho regalato velone grazie mille per questa ottima squadra non solo yellow anche red card tutto adesso già sono più veramente un attresato